I più buoni al potere Una quindicina di anni fa Giorgio Gaber ha previsto le parole belle e dolci e velenose, delle boldrine, i Renzi il modello accoglienza, i gentiloni, le Bonino e i Soros. Ricordate Giorgio Gaber quando sfotteva il potere dei più buoni? Il cantautore ridicolizzava quelli che si mostrano sensibili, umani, buoni, sulle tv e i giornali e faceva loro il verso con queste parole. Penso ad un popolo multiraziale, ad uno stato molto solidale, che stanzi i fondi in abbondanza perché il mio motto è l'accoglienza bisogna dare appartamenti ai clandestini e anche ai parenti. C'erano già a quei tempi le boldrine, i Renzi il modello accoglienza, i gentiloni, le Bonino e i Soros. E, dai loro scranni, grazie al loro potere, cantavano la stessa canzone che sentiamo oggi, ogni giorno. Ma quanto c'è di vero nella loro bontà? Quanto di vero in ciò che ci raccontano? Ce lo spiega Anna Bono. Una vera esperta di Africa. Cattolica. Già ricercatrice in storia e istituzioni dell'Africa presso l'Università di Torino. Nel suo imperdibile Migranti. Punto interrogativo. Migranti. Punto interrogativo. Migranti. Punto interrogativo. Apice. Ci raccontano un sacco di bugie. Cercando di generare nel cittadino medio un misto tra pietà. Sensi di colpa. Paura di non apparire buoni. Ma se è vero che la pietà, l'accoglienza, l'attenzione allo straniero, sono davvero valori umani e cristiani. È anche vero che non hanno nulla a che vedere con quanto accade oggi, per mille motivi. Perché gli immigrati di oggi non scappano dalle guerre, se non in minima parte. Perché chi dice di accoglierli, spesso li sfrutta. Perché questo fenomeno massiccio e incontrollato fa male sia all'Africa che all'Europa. Anna Bono lo spiega con dati e numeri. Poca retorica e molta sana concretezza e logica. Ricordandoci. Per esempio. Che in Svezia masse di immigrati svolgono lavori nero e sottopagati e già se ne avvertono i danni economici e sociali. Le retribuzioni medie diminuiscono perché gli stranieri percepiscono stipendi pari a un quinto della media svedese. Vuoi vedere che i ricconi tanto buoni alla fine creeranno una società di sfruttati, neri o bianchi che siano. Vuoi vedere che le elite ben pasciute e cosmopolite che parlano più inglese o tedesco che italiano. Che discettano sempre di accoglienza. In verità stanno pensando ad un mondo sempre più iniquo, ricco solo di nuove guerre tra poveri. Leggere il libro di Anna Bono è molto utile. Può aiutarci ad essere più liberi e a capire meglio che occorre andare a votare per cambiare. Per fermare una invasione disgregante. Per tutti, anche per chi viene spinto a lasciare la sua terra dai trafficanti di uomini. Aiuta a capire che non sempre chi usa di continuo parole belle e dolci. Come accoglienza è davvero più buono di chi si arrabbia nel dire come stanno, davvero, le cose.